Professoressa Enrica Daguanno, coordinatrice del corso di design della comunicazione all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Il logo di quest'anno disegnato dai suoi allievi, un logo modernissimo, lo si diceva poco fa in conferenza stampa, che racchiude tutti gli elementi di questa festa e non sono pochi. Sì, quest'anno i ragazzi hanno lavorato e si sono misurati con questa nuova esperienza per la festa di Sant'Anna. È stato un lavoro molto bello, secondo me anche molto riuscito. Hanno creato questo logo dinamico raccontando le fasi della festa e le fasi del giorno. Io credo che in questa occasione, come in altre, noi lavoriamo spesso con gli enti pubblici. Questa volta mi sembra una di quelle volte che veramente hanno fatto un lavoro splendido, hanno vissuto l'esperienza di andare a Ischia, di capire l'importanza di questi luoghi e questo ha semplificato, secondo me, il loro lavoro. Essere là, conoscere il luogo, vedere la bellezza di Ischia e dei luoghi che hanno visitato e credo che veramente siamo riusciti a ottenere un'immagine che mi sembra anche in evoluzione nel tempo. Non mi sembra un'immagine legata a un solo evento. Credo che possa continuare a essere utilizzata, anche perché funziona da contenitore, si trasforma durante il giorno, c'è quest'idea dinamica che aprendo il sito vedremo le varie fasi del giorno e anche questa è un'esperienza interessante anche dal punto di vista del design.